Quella appena conclusa è stata una stagione estiva caratterizzata da tantissime presenze sull'isola d'Ischia, molti italiani ma anche tanti stranieri. Ma non è stato solo l'isola verde a registrare un incremento rispetto alle stagioni precedenti. L'estate da record per il comparto ricettivo infatti ha riguardato anche Capri e Sorrento. Quello che può essere a ragione definito il triangolo d'oro del comparto ricettivo della regione Campania ha accolto viaggiatori arrivati da ben 80 diversi paesi, attratti dai faraglioni, dal castello aragonese e dalla divina costiera. Inglesi e statunitensi come sempre hanno invaso la penisola sorrentina al punto che nel segno di una consolidata cooperazione tra le imprese e le categorie una parte dei flussi in entrata è stata dirottata anche sulla nostra isola. Ischia infatti ha ospitato 7.000 britannici in più rispetto al 2014. L'isola verde, pur continuando a puntare sul mercato tedesco, sta lavorando per diversificare i target turistici, come è testimoniato dai flussi in crescita non solo dal Regno Unito ma anche dalla Svizzera, Cina, Irlanda e paesi baltici. A Capri si è invece registrato un vero e proprio boom di americani, 16% in più, che ha compensato almeno in parte il preannunciato forte calo di russi e la flessione degli europei, in particolare francesi, inglesi e tedeschi. Sull'isola azzurra si consolida la presenza dei cinesi e in generale di turisti provenienti dall'estremo oriente e si iniziano a vedere anche i risultati del varco aperto in America meridionale, al momento soprattutto in Argentina e Brasile, vera novità di questa stagione caprese. Nonostante le criticità dei trasporti marittimi che tutti ben conosciamo quindi, le perle del Golfo di Napoli continuano ad essere un volano importante per l'intera economia regionale. Basti pensare che il pil turistico di Capri, Ischia e Sorrento copre all'80% quello dell'intero settore campano. E il rafforzamento dei grandi colossi mondiali del settore, che in parte hanno cambiato le regole della intermediazione delle prenotazioni alberghiere, provando anche a condizionare la politica dei prezzi, non è riuscita a colpire più di tanto gli storici addetti ai lavori del territorio. Il tour operator Gino Acampora ha sottolineato anche l'importanza del lavoro svolto dalla GESAC all'aeroporto di Capodichino. L'aumento dei voli diretti dalle tratte regionali europee per Napoli si è rivelato come una garanzia strategica. L'aereo fa la differenza. Più complicato è raggiungerci in treno o in auto. Ed è chiaro, continua il celebre tour operator di Sorrento, che occorre un secondo aeroporto in campagna, altrimenti questa bella fase di sviluppo non avrà sbocchi, proprio mentre la collaborazione tra le categorie si sta rivelando vincente. Acampora annuncia anche per il prossimo World Travel Market di Londra, dal 2 al 5 novembre, un evento d'intesa con l'isola Dischi.